Ciao a tutti, allora conoscete bene la barca da fuori, adesso ve la faccio vedere da dentro Qua c'è l'entrata, la mente, il vestibullo dove si metterà le cose Qua la nostra bella cucina, eh? C'è Guido, Jacques, sempre mangiando Ah, un po' di... non so cos'è? Ah, che giovi! Ah, le sonchoa, buonissime Qui dietro c'è un bagno che non si usa mai, vi faccio vedere il resto I nostri vestiti sono qua Corrado che dorme, più o meno Qua il letto, un po' più di roba personale Qua c'è un altro letto con Boris Boris che dorme, nostro router, ovviamente Un po' più di letto in fondo E il posto di comando Il mondo di Giovanni dove ci sono luce, bottoni, varie cose Di qua, tutti in media, il computer Questo è l'ultima parte della barca, in fondo della barca dove Michele fa tutti i nostri video E come potete vedere la barca è divisa in tre sezioni In caso ci sono delle venute da qui si chiudono queste porte E così l'acqua viene dentro della barca Venite, vi faccio vedere l'ultima uscita E voilà, il giro è finito per oggi Ciao